Persi. Persi aveva combattuto tante battaglie. Aveva combattuto anche in un paio di arene, ma niente era paragonabile a quello. Nell'enormità del Colosseo, con migliaia di spiriti acclamanti, il diobacco che lo osservava dall'alto e due giganti di tre metri e mezzo che torreggiavano sopra di lui, si sentì piccolo e insignificante come una cimice. E anche molto arrabbiato. Abbacco. Combattere contro i giganti era un conto, ma Abbacco che trasformava la sfida in un gioco, era tutta un'altra faccenda. Gli tornò in mente quello che Luke Kestelan aveva detto anni prima, quando lui era tornato dalla sua prima missione. Non hai capito quanto tutto questo sia inutile? Tutti gli eroi non sono altro che pedine degli dèi. Ormai Persi aveva quasi la stessa età di Luke all'epoca e riusciva a capire perché l'altro fosse diventato così astioso. Negli ultimi cinque anni anche lui era stato troppo spesso una pedina. Gli dèi dell'Olimpo sembravano fare a turno per sfruttarlo nei loro intrighi. Forse gli dèi erano migliori dei titani, dei giganti o di Gea, ma questo non li rendeva né buoni né saggi. Né a lui faceva apprezzare di più quello stupido combattimento nell'arena. Purtroppo non aveva molta scelta. Se voleva salvare gli amici doveva sconfiggere quei giganti. Doveva sopravvivere e trovare Annabeth. E Fialt e Otto gli semplificarono la decisione. Attaccarono. Sollevarono una finta montagna grande come l'appartamento new yorkese di Persi e la scagliarono contro i semi dèi. Persi e Jason si tuffarono con un balzo nel fossato più vicino e la montagna si frantumò sopra le loro teste, ricoprendoli di frammenti di gesso. Niente di micidiale, ma le schegge bruciavano da morire. La folla esultò e gridò chiedendo sangue. Lotta! Lotta! Otto lo prendo di nuovo io? Urlò Jason per sovrastare il rumore. O stavolta ci pensi tu? Persi cercò di riflettere. Dividersi e combattere contro un gigante a testa era la tattica naturale, ma l'ultima volta non aveva funzionato granché. E cominciava a capire che forse avevano bisogno di una strategia diversa. Per tutto il viaggio si era sentito responsabile della guida e della protezione degli amici. E Jason la pensava allo stesso modo, era certo. Avevano lavorato in piccoli gruppi, nella speranza che fosse più sicuro. Ogni semi dio aveva combattuto da solo, ciascuno facendo quello che sapeva fare meglio. Ma c'era un motivo se Hera aveva formato una squadra di sette semidei. Le poche volte che Persi e Jason avevano collaborato, per evocare la tempesta a Fort Samter, per fuggire dalle colonne d'Ercole e anche per riempire d'acqua il ninfeo, Persi si era sentito più sicuro, più capace di risolvere i problemi. Come se fosse stato un ciclope tutta la vita e all'improvviso si fosse svegliato con due occhi. Attacchiamo insieme, propose. Prima Otto perché è più debole. Lo facciamo fuori alla svelta e passiamo a Efialte. Bronzo e oro insieme, così magari impiegano un po' di più a riformarsi. Perché no? Jason accennò un mezzo sorriso, come se avesse appena scoperto che sarebbe morto in un modo imbarazzante. Ma Efialte non rimarrà lì ad aspettare mentre noi uccidiamo suo fratello. A meno che c'è un bel vento oggi, suggerì Persi, e ci sono condutture d'acqua che passano sotto l'arena. Jason capì al volo e rise, e Persi sentì una scintilla di amicizia. Quel ragazzo la pensava come lui su un sacco di cose. Altre? Perché aspettare? Uscirono dal fossato all'attacco. Come sospettava Persi, i gemelli avevano sollevato un'altra montagna e stavano aspettando l'occasione buona per colpire. Erano pronti per il lancio, ma Persi fece esplodere una tubatura d'acqua ai loro piedi e il pavimento tremò. Jason investì Efialte con una raffica di vento sul petto. Il gigante dai capelli viola cadde all'indietro e Otto perse la presa sulla montagna, che crollò sopra il fratello. Sotto tutto quel gesso solo i piedi di Efialte restarono fuori, con i serpenti che guizzavano a destra e a manca, come se si domandassero dove fosse finito il resto del corpo. La folle esultò, ma Persi sospettava che Efialte fosse solo stordito. Avevano a disposizione qualche secondo al massimo. «Ehi, Otto!» gridò. «Lo schiaccianoci è uno schifo!» «No!» Otto afferrò la lancia e la scagliò, però era troppo arrabbiato per mirare bene. Jason la deviò e la spedì nel lago. I semidei arretrarono verso l'acqua, inveendo contro la danza classica, cosa piuttosto impegnativa, dato che Persi non ne sapeva granché. Otto si precipitò a mani nude verso di loro, prima di rendersi conto che, uno, era a mani nude, e che, due, lanciarsi verso una grossa massa d'acqua per combattere contro un figlio di Poseidone, forse non era una buona idea. Troppo tardi tentò di fermarsi. I semidei rotolarono ai suoi fianchi e Jason evocò il vento, sfruttando lo slancio del gigante stesso per spingerlo in acqua. E mentre Otto tentava di alzarsi, i ragazzi lo attaccarono all'unisono. Si scagliarono contro di lui e lo colpirono sulla testa con le spade. Il poveretto non ebbe neppure la possibilità di fare una pirouette. Esplose disintegrandosi sulla superficie del lago, come un enorme pacchetto di integratori in polvere. Persi agitò il lago trasformandoli in un vortice. L'essenza di Otto tentò di riformarsi, ma mentre sbucava con la testa dall'acqua, Jason evocò un fulmine e lo ridusse di nuovo in polvere. Fin lì tutto bene, ma non avrebbero potuto tenere Otto a bada per sempre. Persi era già stanco per il combattimento sottoterra. Aveva ancora la pancia indolenzita per il colpo di poco prima. Sentiva che gli venivano meno le forze. Ne dovevano affrontare un altro gigante. In quello stesso istante, la montagna di Cartongesso esplose alle loro spalle. E Fialte si alzò, mughiando di rabbia. Persi e Jason aspettarono che si precipitasse a rotta di collo verso di loro, con la lancia in mano. A quanto pareva, essere rimasto spiaccicato sotto una montagna di gesso gli aveva solo infuso energia. Aveva una luce assassina negli occhi. Il sole del pomeriggio scintillava sulle monete intrecciate nei suoi capelli. Anche i piedi serpenti, che scoprivano i denti e si bilavano, sembravano arrabbiati. Jason evocò un altro fulmine, ma E Fialte lo intercettò con la lancia e deviò la scarica, fondendo una mucca di plastica. Abbatté una colonna di pietra che gli intralciava la strada, come se fosse una pila di mattoncini di lego. Persi tentò di mantenere il lago agitato. Non voleva che Otto si rialzasse per unirsi al combattimento, ma mentre Fialte percorreva gli ultimi metri, dovette distrarsi per forza. I due ragazzi affrontarono l'assalto del gigante. Si lanciarono sue Fialte, assestando colpi e stoccate in un turbine di oro e bronzo. Ma il gigante schivò ogni singolo attacco. Io non mi arrendo, ruggì. Avete rovinato il mio spettacolo. Ma Gea distruggerà comunque il vostro mondo. Persi menò una raffica di fendenti e riuscì a mozzargli la lancia. E Fialte non si scompose. Fece scorrere rasoterra l'asta spezzata e lo mandò a gambe all'aria. Persi atterrò violentemente sul braccio con cui impugnava la spada e perse la presa su vortice. Jason tentò di approfittare della situazione. Si avvicinò al gigante e mirò al petto. Ma in qualche modo E Fialte parò il colpo e rispose menando un fendente con la punta della lancia, che andò a segno. La maglietta viola di Jason si trasformò in un gilet. Vedendo la sottile striscia di sangue che gli colava lungo lo sterno, il ragazzo barcollò. E Fialte lo scaraventò all'indietro con un calcio. Nel palco dell'imperatore Piper urlò, ma la sua voce fu sommersa dal buato della folla. Bacco guardava tutto con un sorriso divertito, sgranocchiando un pacchetto di patatine. E Fialte torreggiava su Persi e Jason, con le due metà della lancia spezzata sospese sopra le loro teste. Il braccio con cui Persi di solito impugnava la spada era intorpidito. Il Gladius di Jason era schizzato dall'altra parte dell'arena. Il loro piano era fallito. Persi lanciò un'occhiata verso Bacco, cercando di stabilire quale sarebbe stata la sua ultima imprecazione contro l'inutile dio del vino. Quando vede una sagoma nel cielo sopra il Colosseo, un grosso vale scuro che scendeva rapidamente. Dal lago Otto gridò tentando di avvertire il fratello. Ma con la faccia ancora mezzo disciolta, riuscì a bofonchiare solo... Non preoccuparti, fratello! replicò E Fialte, puntando ancora gli occhi sui semidei. Li farò soffrire! Largo Due sterzò nel cielo, presentando il fianco sinistro. E un fuoco verde, divampò dalla balista. Beh, forse dovresti guardarti alle spalle, suggeri Persi. I ragazzi rotolarono via, mentre Fialte si voltava e lanciava un grido incredulo. Persi si infilò in un fossato, nell'istante in cui l'esplosione faceva tremare il Colosseo. Quando ne uscì, Largo Due era vicino all'atterraggio. Jason fece capolino da dietro il cavallo di plastica che aveva scelto come rifugio antibomba, e Fialte se ne stava bruciacchiato e gemente a terra, con la sabbia circostante trasformata in un alone di vetro dal calore del fuoco greco. Otto annaspava nel lago, tentando di riformarsi, ma dalle braccia in giù sembrava una pozza di minestrone bruciato. Un po' barcollante, Persi si avvicinò a Jason e gli diede una pacca sulla spalla. La folla dei fantasmi si alzò per applaudire, mentre Largo Due apriva il carrello di atterraggio e si posava al centro dell'arena. Leo era al timone. Hazel e Frank sorridevano al suo fianco. Edge saltellava intorno alla piattaforma di lancio, agitando i pugni in aria e gridando «Questa sì che è una battaglia!» Persi si voltò verso il palco dell'imperatore. «Allora?» gridò a bacco. «Ti sei divertito abbastanza, razza di...» «Non è necessario!» All'improvviso, il dio era accanto a Persi nell'arena. «Si spolverò le briciole di patatine dalle vestiviola!» «Ho deciso che siete degni compagni per questa battaglia!» «Compagni?» grugni Jason. «Ma se non hai mosso un dito!» Bacco si incamminò verso la riva del lago. L'acqua si prosciugò all'istante, lasciandosi dietro solo un mucchio di poltiglia a forma della testa di Otto. Il dio si addentrò sul fondale asciutto e guardò la folla. Sollevò il tirso. La folla rispose con grida di scherno e puntò il pollice verso il basso. Persi non aveva mai capito se significasse vivo o morto. Aveva sentito dire tutte e due le cose. Bacco scelse l'alternativa più divertente. Sbatté il bastone con la pigna sulla testa di Otto, disintegrando del tutto quella poltiglia gigantesca. La folla impazzì. Bacco uscì dal lago e si incamminò impettito verso Fialte, che era sempre disteso a braccia e gambe divaricate, bruciacchiato e fumante. Il dio sollevò ancora una volta il tirso. «Sì, sì!» ruggì la folla. «No, no!» gemette Fialte. Bacco diede un colpetto sul naso del gigante e di Fialte si disintegrò in cenere. I fantasmi esultarono e lanciarono confetti spettrali, mentre Bacco passeggiava per lo stadio con le braccia sollevate in segno di trionfo, gongolando per l'adorazione del pubblico. Poi si rivolse ai semi dei con un gran sorriso. «Questo, amici miei, è uno spettacolo! E io ne sono il protagonista! Ho ucciso due giganti!» Mentre gli amici di Persi sbarcavano dalla nave, la folla di fantasmi scintillò e scomparve. Piper e Nico scesero dal palco dell'imperatore, mentre le attrezzature magiche del Colosseo cominciarono a disintegrarsi. Il pavimento rimase intatto, ma per il resto sembrava che l'arena non ospitasse una bella uccisione di giganti da secoli. «È stato divertente!» disse Bacco. «Avete il mio permesso di continuare il vostro viaggio?» «Il tuo permesso?» ringhiò Persi. «Sì!» Bacco inarcò un sopracciglio. «Anche se il tuo viaggio potrà forse essere un po' più difficile di quanto ti aspetti, figlio di Nettuno!» «Oseidone!» lo corresse Persi in automatico. «Cosa intendi dire con il mio viaggio?» «Potresti provare il parcheggio dietro il Vittoriano!» continuò Bacco. «Il posto migliore per sfondare!» «E ora, addio amici miei! Ne buona fortuna con quell'altra piccola faccenda!» Il dio si volatilizzò in una nube di vapore che sapeva di succo d'uva. Jason corse subito incontro a Piper e Nico. Edge trotterellò verso Persi, seguito da Hazel, Frank e Leo. «Quelo era Dioniso?» domandò il satiro. «Bel tipo! Mi piace!» «Siete vivi!» esclamò Persi. «I giganti hanno detto che vi avevano catturato! Cos'è successo?» Leo scrollò le spalle. «No, solo un altro fantastico piano di Leo Valdés. Non immagini neanche quello che si può fare con una sfera di Archimede, una ragazza in grado di percepire la roba sottoterra e una donnola.» «La donnola ero io», precisò Frank in tono cupo. «In pratica ho attivato una vite idraulica con un macchinario di Archimede, che sarà fantastico una volta che l'avrò installato sulla nave», spiegò Leo. Hazel ha trovato il percorso più semplice per tornare in superficie. «Abbiamo ricavato una galleria a misura di donnola» e Frank è salito su, con un semplice trasmettitore montato da me. Poi è bastato inserirsi sui canali satellitari preferiti di Hedge e dirgli di venirci a prendere con la nave. Una volta che ci ha trovati, localizzare voi è stato semplice, grazie al divino spettacolo di luce al Colosseo.» Persi capì circa il 10% della storia, ma decise che era abbastanza, dato che aveva una domanda più urgente. «Dov'è Annabeth?» Leo trasalì. «Crediamo che sia ancora nei guai. È ferita, con una gamba rotta probabilmente, almeno stando alla visione che Gea ci ha mostrato. Salvarla è il nostro prossimo passo.» Fino due secondi prima, Persi era sul punto di collassare. In quel momento si sentì attraversare da una scarica di adrenalina. Avrebbe voluto strangolare Leo e domandargli perché Diavolo Largo 2 non era andata a salvare Annabeth come prima cosa, ma pensò che avrebbe potuto sembrare un po' ingrato. «Raccontami della visione.» Il pavimento tremò. Le assi di legno cominciarono a scomparire, versando sabbia nelle fosse dell'ipogeo sottostante. «Parliamone a bordo», suggerì Hazel. «Sarà meglio decollare finché è possibile.» Uscirono dal Colosseo e si messero verso sud, sopra i tetti di Roma. Tutto intorno a Piazza del Colosseo, il traffico era bloccato. Una folla di mortali si era radunata, probabilmente per cercare di capire cosa fossero le strane luci e gli strani rumori provenienti dalle rovine. Per quanto Persi poteva vedere, nessuno degli spettacolari piani di distruzione dei giganti era riuscito. La città sembrava la stessa di prima. Nessuno sembrò notare l'enorme trireme greca che si alzava in cielo. I semidei si riunirono intorno al timone. Jason fasciò la spalla slogata di Piper mentre Hazel sedeva a poppa e dava l'ambrosia a Nico. Il figlio di Ade riusciva a malapena sollevare la testa. Aveva un tono di voce così fievole che Hazel doveva chinarsi per comprendere quello che diceva. Frank e Leo le raccontarono quello che era accaduto nella stanza con le sfere di Archimede e le visioni che Gea aveva mostrato loro nello specchio di bronzo. Decisero rapidamente che l'indizio migliore per trovare Annabeth era il criptico suggerimento dato da Bacco. Il Vittoriano, qualunque cosa fosse. Frank cominciò a digitare parole sul computer del timone, mentre Leo tamburellava come un pazzo sui suoi comandi borbottando Vittoriano, Vittoriano. Edge tentò di essere di aiuto, lottando con una cartina di Roma all'incontrario. Percy si inginocchiò accanto a Jason e Piper. Come va la spalla? La figlia di Afrodite sorrise. Guarirà. Siete stati entrambi fantastici. Jason diede di gomito a Percy. Niente male come squadra, eh? Meglio di quando abbiamo duellato in quel campo di mice in Kansas, concordò Percy. Eccolo, gridò Leo, indicando il monitor. Frank, sei grande. Stabilisco la rutta. Il figlio di Marte si strinse nelle spalle. Ho solo letto il nome sullo schermo. Un turista cinese l'ha contrassegnato su Google Maps. Leo fece un gran sorriso agli altri. Legge il cinese, lui. Solo un po', mormorò Frank, imbarazzato. Non è una forza? Ragazzi, detesto interrompere la vostra sessione di complimenti, ma questa dovete sentirla. Hazel aiutò Nico ad alzarsi. Il figlio di Ada era sempre stato pallido, ma ormai la sua pelle sembrava latte in polvere. Gli occhi scuri infossati ricordarono a Percy le foto dei prigionieri di guerra liberati. In fin dei conti, era proprio così che stavano le cose. «Grazie», disse Nico con voce roca, spostando nervosamente gli occhi sui vari membri del gruppo. Avevo perso la speranza. Nell'ultima settimana giù di lì, Percy aveva pensato a un sacco di commenti taglienti da fare quando lo avrebbe rivisto, ma davanti alla sua fragilità e afflizione preferì non infierire. «Hai sempre saputo dell'esistenza dei due campi», si limitò a dire. «Avresti potuto rivelare la mia identità fin dal primo giorno in cui sono arrivato al campo Giove, ma non l'hai fatto». «Perché?» «Persi, mi dispiace». Nico si appoggiò di peso sul timone. «Ho scoperto il campo di Giove l'anno scorso. Mi ci ha portato mio padre, anche se non ho capito bene perché. Mi ha detto che gli dèi tenevano separati i campi da secoli e che non potevo dirlo a nessuno. Non era il momento giusto. Ma ha detto che era importante che io sapessi». Si piegò in due per un attacco di tosse. Hazel lo sorresse per le spalle, finché non si rimise dritto. «Io pensavo che papà lo avesse fatto per via di Hazel», riprese Nico. «Avrei avuto bisogno di un posto sicuro dove portarla. Ma adesso credo che volesse farmi sapere dei due campi perché capissi quanto è importante questa impresa e mi mettessi a cercare le porte della morte». L'atmosfera divenne elettrica letteralmente, visto che Jason cominciò a lanciare scintille. «Hai trovato le porte?» chiese Percy. «Niko annui. Sono stato uno scemo. Credevo di poter andare ovunque negli inferi, ma sono caduto dritto nella trappola di Gea. Tanto valeva che tentassi di scappare da un buco nero». Frank si morse un labbro. «Di che tipo di buco nero stai parlando?» «Niko fece per parlare, ma qualsiasi cosa avesse da dire doveva essere troppo terrificante, perché si girò verso Hazel». Lei gli mise la mano sul braccio. «Niko mi ha detto che le porte della morte hanno due versanti, uno nel mondo dei mortali, uno negli inferi. Il lato mortale si trova in Grecia ed è pesantemente sorvegliato dalle forze di Gea. È da lì che hanno riportato Nico nel mondo esterno. Poi l'hanno trasferito a Roma». Piper doveva essere nervosa, perché la cornucopia sputtò fuori un cheeseburger. «In che punto di preciso della Grecia si trova l'entrata?» Nico trasse un respiro tremante. «Nella casa di Ade. È un tempio sotterraneo nell'Epiro. Posso indicarlo sulla cartina, ma... ma il lato mortale del portale non è un problema. Negli inferi. Le porte della morte sono in... in...» Persi sentì un brivido lungo la schiena, come se due mani gelide la stessero attraversando da cima a fondo. «Un buco nero?» Una zona degli inferi da cui non era possibile fuggire e in cui non poteva entrare neppure Nico di Angelo. Perché non ci aveva pensato prima? Conosceva quel posto, era arrivato fino ai suoi margini. E continuava ad avere degli incubi a riguardo. «Il tartaro», intuì, «la parte più profonda degli inferi». Nico annuì. «Mi hanno trascinato nell'abisso, Persi. Le cose che ho visto laggiù». La voce gli si spezzò. Hazel storse le labbra. «Nessun mortale è mai stato nel tartaro», spiegò. «O perlomeno nessuno ne è mai tornato vivo. È la prigione di massima sicurezza di Ade, dove sono rinchiusi i vecchi titani e gli altri nemici degli dèi. È dove finiscono tutti i mostri quando muoiono. È... beh, nessuno sa esattamente come sia». Hazel spostò gli occhi su suo fratello. Non era necessario che concludesse il proprio pensiero. «Nessuno tranne Nico». Gli porse la spada nera. Nico vi si appoggiò, come fosse il bastone da passeggio di un vecchio. «Adesso capisco perché Ade non è stato in grado di chiuderne le porte. Nemmeno gli dèi scendono nel tartaro. Nemmeno il dio della morte, Tanato stesso, vi si avvicina». Leo alzò gli occhi dal timone. «Fammi indovinare. Dobbiamo andare là?» Nico scosse la testa. «È impossibile. Io sono figlio di Ade, e anch'io sono sopravvissuto a stento. Le forze di Gea mi hanno schiacciato all'istante. Sono così potenti laggiù. Nessun semidio ha possibilità di successo. Io sono quasi impazzito». Gli occhi di Nico sembravano di vetro frantumato. Persi si domandò con tristezza se qualcosa dentro di lui si fosse spezzato per sempre. «Allora salperemo alla volta dell'epiro», propose. «Chiuderemo le porte solo da questo lato». «Magari fosse così semplice», replicò Nico. «Le porte devono essere controllate su tutti e due i versanti per essere chiuse. È come un doppio sigillo. Forse, ma solo forse, tutti e sette insieme potreste sconfiggere le forze di Gea sul lato mortale, alla casa di Ade. Ma a meno che non abbiate una squadra che combatte contemporaneamente sul versante del tartaro. Una squadra abbastanza potente da sconfiggere una legione di mostri sul loro suolo natio. Deve esserci un modo», mormorò Jason. Nessuno propose un'idea brillante. Persi si sentì lo stomaco in gola. Poi si accorse che la nave stava calando verso un enorme edificio. «Annabeth!» Le notizie di Nico erano così terribili che per un attimo si era dimenticato che Annabeth era ancora in pericolo. Si sentì incredibilmente in colpa. «Proveremo una soluzione per il problema del tartaro dopo», concluse. «È quello il vittoriano?» Leo annui. «Bacco ha accennato un parcheggio sul retro». «Bene, eccolo! Cosa facciamo adesso?» Persi ripensò al sogno che aveva fatto. Una sala buia, la voce sibilante malvagia di un mostro che si chiamava Sua Signoria. Ripensò a come Annabeth era scossa quando era tornata da Fort Samter dopo l'incontro con i ragni. Lui aveva cominciato a sospettare cosa potesse esserci in quel tempio. Letteralmente, la madre di tutti i ragni. E se aveva ragione, Annabeth era rimasta intrappolata laggiù con quella creatura per ore e ore, da sola, con la gamba rotta. A quel punto non gli importava più se la missione della sua ragazza doveva essere in solitario o meno. «Dobbiamo tirarla fuori di lì!» esclamò, deciso. «Beh, sì», concordò Leo. «Ma…» forse stava per dire «e se fosse troppo tardi?» Ma cambiò saggiamente idea. «C'è un parcheggio in mezzo alla strada?» Percy guardò Hedge. Bacco ha detto qualcosa a proposito di sfondare. «Coach, ha ancora munizioni per le baliste?» Il satiro, sorrise beato come un caprone selvatico. «Pensavo che non lo avresti mai chiesto!»